In questa recensione Collezionare Transformers? E' collezionare Masterpiece? Qua abbiamo la scala ed i dettagli a livello dei modellini Diecast pregiatissimi I Seekers dunque, ma perché scegliere Asset Storm? BOOM amici Masterpiece Vai per recensisci Transformers ma non recensisci Masterpiece Vai per mali collezioni Masterpiece Fai una recensione di un Masterpiece Perché non recensisci Masterpiece? E allora to, ciapate il Masterpiece Socio du Maron Allora, facciamo chiarezza una volta per tutte Sì, io colleziono Masterpiece Ma solo alcuni, quelli che mi piacciono Non colleziono Masterpiece tutti come linea in generale Perché? Allora, perché? Primo, ok, adoro i Transformers Ma, ve l'ho sempre detto Adoro quelli dal design moderno Non quelli che richiamano particolarmente Il design dei giocattoli anni 80 Un po' vintage Non sono un nostalgico Se è una cosa efficante anche oggi Allora la prendo Prendere invece il robot con design vintage Soprattutto che rappresentano auto vecchie Ormai d'epoca Non mi ficca Secondo, appunto Non colleziono Masterpiece Takara o Asbro Solo perché sono la serie originale per collezionisti Non me ne frega una cippa che sono la serie originale O meglio Quando l'originalità è sinonimo di qualità Preferisco ovviamente, certo L'originale al posto del tarocco Altrimenti non è che me ne freghi Così come non me ne frega Il dover collezionare tutti i modelli di una serie Specie se più della metà dei modelli di quella serie mi eccita poco Ci sono collezionisti che collezionano Masterpiece dei Transformers Non considerando tutte le produzioni di terze parti Solo perché magari non sono originali Asbro o Takara O perché non hanno il design vintage fedele al cartone O addirittura perché si sono fatti l'idea per loro che collezionare Transformers è quello Sono Masterpiece Beh, lasciatemelo dire La trovo una collezione molto limitante Oh, fatta questa doverosa precisazione Veniamo al perché recensisco proprio questo Masterpiece Questo Asset Store E forse perché è il mio ultimo acquisto? Forse è stato il mio primo Masterpiece? Assolutamente no Nulla di tutto ciò Non è né il primo né l'ultimo Masterpiece della mia collezione La motivazione invece è molto più banale Si tratta di uno dei due Masterpiece Lose Che mi aggiudicai tempo fa in un'asta su ebay So che per chi colleziona Masterpiece Per chi appunto non si perde un'uscita Acquistare Masterpiece senza scatola è inconcepibile Ma nel mio caso non lo è Ovviamente se posso acquisto con scatola Acquisto anche pezzi nuovi se mi interessano particolarmente Ma quando trovo dei prezzi sfacciati Della scatola sinceramente me ne infischio E qui il prezzo Beh, mi sono aggiudicato due Masterpiece Questo e Grimlock A 85 dollari Non l'uno 85 dollari in totale Quando uno di questi difficilmente lo si trova a meno di 110-130 euro Ed era da un annetto più Che però li tenevo in giro nel mio studio In attesa di recensione Sempre un po' in pezzo alle balle E ho quindi deciso che era venuto il momento per recensirli Motivazione banale Ma che mi ha finalmente consentito di parlarvi dei Masterpiece Ma dopo questo strabordante pippone anche sulle motivazioni di scelta di questo Masterpiece Da recensire è giunta l'ora di parlarvi di Asset Store Come potete constatare già dalla sua forma robot è un Seeker Infatti altro non è che un repaint dei vari Seekers già usciti in formato Masterpiece Ma chi è? Da dove salta fuori? Magari molti di voi non se lo ricordano O non lo hanno mai visto prima Dato che compare fugacemente solo in una puntata della G1 Il meno famoso dei Seekers Eppure è potenzialmente quello con il mio design preferito Ma questo lo vedremo meglio nella sua forma di aereo Parliamo ora di questa forma robot Il design di questi Seekers in forma robot Inizialmente quando li vedevo in foto Non mi convinceva appieno Certo, fedele nelle forme Mi sembrava però come mancasse di una certa concretezza Mi sembravano come dei robot appesi ad un aquilone Poi, pian pianino, rigirandomeli in mano Trasformandoli Ho cominciato ad apprezzare l'estetica E a vedere quelle ali più come un mantello Che non un aquilone Lo sculpt della testa, piuttosto tipico È ben realizzato e non mi dispiace Per quanto un filo vintage Grazie all'estensione delle gambe Mantiene una forma ben slanciata Nonostante comunque le braccia siano Sia entrambe braccia che gambe belle solide Dietro occulta bene il suo zaino Sebbene riveli il suo lato nettamente più spoglio Con viti e giunture in evidenza E la mancanza della verniciatura camouflage sulle ali Verniciatura che, lo vedremo anche in alt mode, è il vero valore aggiunto del modello E gli dà un look nettamente più moderno La posabilità è buona Nonostante i vari orpelli che si porta appresso E consente anche certe pose evocative tipiche dei cartoni Forse l'elemento meno riuscito sono i piedi O quelle protesi che li simulano Anche se mi rendo conto fosse difficile proporre qualcosa in più Per poi doverlo sapientemente occultare Non ha una dotazione stupefacente Ma asciutta, tipica da G1 I due fucili cannoni sugli avambracci Cui si aggiungono, grazie ad una piccola gimmick Questi lanciarazzi In definitiva è un robot solido Imponente Grazie alle ali backpack Un design con una verniciatura, in questo caso moderna E davvero qualche chicca di corredo La trasformazione è discreta Non di più Perché benché alla fine sia apprezzabile come tutto Abbi un incastro giusto E non ci siano pannellature sotto sforzo per contenere il robot C'è più di un passaggio rognoso Le gambe ad esempio richiedono certi sforzi Per essere estratte e reinserite Che non ti dico Ti sembra che con tale sforzo Ti rimarranno tra le mani le due metà Anche la testa deve passare per pertugi Che rischiano di minare l'incolumità delle plastiche E infine certi pannelli Le ali, i cannoni Stanno spesso tra le balle durante la trasformazione Insomma Bene l'esito Con qualche inceppo invece nel processo Ed eccoci quindi alla forma alternativa Il nostro classico aereo Il fantomatico F-15 E la prima volta che l'ho trasformato E mi sono ritrovato tra le mani Questa meraviglia Sono subito rimasto Sbattezzato dalle sue dimensioni Perché se da un lato Trattandosi di un masterpiece Mi dico che me lo sarei dovuto aspettare Dall'altro non è cosa di tutti i giorni Avere a che fare con aerei transformers così grossi Così grossi è realizzati con una fedeltà Per certi versi modellistica E a proposito di modellini Che esaltazione nel constatare Che come modello è praticamente in scala Con i veri modellini di aerei Dicast nella loro scala più pregiata Ovvero la 1-72 Il poterli affiancare È un vero godimento Peccato solo Non possiede ancora L'F-15 in Dicast Per fare un paragone 1-1 Ma provvederò sicuramente Prima di recensire magari Un altro dei vari seekers Che possiedo in questa classe Ma la fedeltà la si riscontra Non solo per la scala Per il raffinato dettaglio Inciso nelle pannellature Ma anche per una serie di gimmick Che possiede questo transformers Nemmeno i modellini di aerei Ne hanno a volte così tante Da dove partire allora? Beh diciamo delle gimmick più scontate Abbiamo la cabina del pilota Che si apre I reattori che possiedono Quel filo di orientabilità Negli scarichi I flap sulle ali Che sono movibili Il freno aerodinamico Che mette in evidenza alcune Poi delle poche parti in metallo Di questo masterpiece L'orientabilità delle prese d'aria Dei reattori anteriori Un altro aspetto piuttosto fedele E addirittura la possibilità Di aprire la sezione della punta Per esporre il radar Infine ovviamente Questi sono davvero irrinunciabili I carrelli retratti a scomparsa Insomma Pare proprio che progettare Questi Seekers Sia stata una sorta di Entusiasta del modellismo aeronautico E questo Da appassionato della materia Quale io sono Non può che esaltarmi Ma non abbiamo ancora parlato Dell'impatto estetico Dato da questa verniciatura Beh da quando l'ho vista E' stato amore a prima vista Ed è un po' strano Perché Sì in effetti Non è particolarmente realistica Come di solito Mi capita di apprezzare Ma Era comunque Un aereo Innanzitutto verde acido E come mai Avrebbero potuto Renderlo realistico Quindi questo camoflaggio Gli dà comunque Un bel sentore militare Ed al contempo Anche di modernità E soprattutto Si scalza Da quelle Classiche Bandelle colorose Che facevano Giocattolo G1 Tipiche degli altri Seekers Insomma E' davvero Un bel valore aggiunto Ora Dobbiamo accennare però A qualche piccolo Difettuccio A parte Qualche segno di sprue Sulla plastica Qua e là Il mio modello Mantiene Questo piccolo Piccolo gap Tra le plastiche A livello della cabina Ma soprattutto Le alette posteriori Sono estremamente Cedevoli E loose Si staccano con facilità Specie durante la trasformazione Ne sto pensando quindi Di aggiungere un po' Di attrito Magari mettendogli appena Un filo di smalto Per il resto Il robot Si compatta Davvero bene Sotto E riesce Tutto sommato A nascondersi In aggiunta C'è la sua basetta Che consente Di sostenerlo Per esporlo Sia in modalità robot Ma soprattutto Tutto ovviamente In modalità aereo Come un vero modellino Ci sono inoltre Due set di missili Da porre sotto le ali Ultimo tocco di fino A sottolineare Le affinità Aeronautiche Del Transformers Purtroppo però Andandoli ad inserire Si devono spostare I cannoni Che Faticano poi A rimanere Belli fissi Puntati Dritti in avanti Beh Questa cosa Potevano pensarla Un po' meglio Si tratta quindi Di un Transformers Comunque Dalla forma Aeronautica Favolosa Pieno pieno Di chimica Che strizzano L'occhio Al geek di turno E quando La forma aeronautica Prevale Su quella robotica Beh E' davvero segno Che l'almode E' superlativo Come modello Quindi mi convince In pieno Nonostante Quel qualche Difetto venale Che abbiamo visto Comunque Trascurabile A fronte Di tanta Tanta sostanza Passiamo ora Alla rubrica Perché comprarlo E perché no Perché acquistarlo E perché E perché No E' un modello Che a mio avviso E' d'obbligo Acquistare Non questo Acid Storm Nello specifico Ma almeno Un Seeker MP Va annoverato Nella collezione Per la dimostrazione Di come un Transformer Può essere Un robot credibile E dal contempo Un jet Spettacolare Che poco invidia Ai modellini Dicast Se scegliere Questo Seeker Al posto degli altri E' solo una questione Di gusto estetico Almeno dovrebbe esserlo Invece che puntare A quanto è famoso O meno Il personaggio Ah Non è detto Che questo sia Il mio Seeker Preferito Poi Ne ho altri Due o tre Che possono Contendergli La corona Però E' uno di quelli Che sicuramente E' tra quelli Tra cui scegliere Perché non comprarlo Magari invece Beh Ad esempio Poiché possedete Magari già Abbastanza Seekers Solo questa Mi pare Una motivazione Plausibile Fermo restando Che Vi perderete Una colorazione Davvero Originale Eficante Bene allora Anche per questo Acid Storm E' tutto Io vi ricordo Come al solito Di iscrivervi Oltre che al canale Anche alla pagina Facebook In cui trovate Tutti i video di unboxing Ed anteprime Che di solito Postavo prima Qui sul canale Ma che ora Per fare più in fretta E postarli subito Posto direttamente Sulla pagina di Facebook Ovviamente La pagina Facebook Di Viper Toys Ed il link Lo trovate qui sotto In descrizione Like e commenti Per questo Splendido Masterpiece Noi ci vediamo Come al solito Alla prossima recensione To be noticed Do Alla prossima recensione